Mammografie gratuite all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento sabato 15 e domenica 16 ottobre nell'ambito delle iniziative previste dal mese della prevenzione del tumore al seno. Per l'occasione il Dipartimento delle Scienze Radiologiche, diretto dal dottore Angelo Trigona, ha aderito all'iniziativa Contro il tumore al seno si cambia musica, una campagna di sensibilizzazione indetta dall'assessorato regionale alla salute dedicata appunto alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori al seno. Le donne della fascia d'età target, quella compresa fra i 50 e i 69 anni, potranno prenotare gratuitamente l'esame mammografico contattando il centro gestionale screening ai numeri 0922 40 75 38 oppure 40 78 29 o ancora 40 71 70. I test e diagnostici si svolgeranno presso gli ospedali di Sciacca e Agrigento e i poliambulatori di Canicattì e Palma di Montechiaro. Come in occasione di altre campagne di sensibilizzazione, afferma il commissario straordinario dell'ASP Mario Zappia, ci aspettiamo che anche il prossimo appuntamento registri una massiccia partecipazione. La lotta al cancro della mammella ha nella prevenzione e nella diagnosi tempastiva gli strumenti fondamentali per ottenere il pieno successo delle cure. Sul tema, ogni anno ad ottobre l'assessorato alla salute promuove la campagna di sensibilizzazione ottobre-mese della prevenzione in sinergia con le aziende sanitarie. Ogni anno in Sicilia vengono diagnosticati oltre 3.400 nuovi casi di tumore della mammella che si conferma la neoplasia più frequente nelle donne con una incidenza di 134 nuovi casi ogni 100.000 abitanti. Il tumore al seno rappresenta la principale causa di ricoveri oncologici in Sicilia. Tra il 2010 e il 2018 ci sono stati in media 4.650 ricoveri l'anno. Nell'isola i decessi per neoplasia della mammella sono in media 980 ogni anno. L'incidenza inizia a crescere a partire dalla terza decada di età e raggiunge il suo picco nelle fasce tra i 45 e i 49 anni e 75 e 79 anni.